Dal 19 al 22 maggio e poi anche il 15 luglio, Pordenone ospita la rassegna Jets Insieme. Cinque concerti con grandi musicisti che arricchiscono l'offerta culturale di Pordenone. La presenta il sindaco Alessandro Ciriani. Jets Insieme è un'altra rassegna importantissima di grande musica e di altissima qualità che arricchisce ulteriormente il panorama culturale e musicale di questa città. Pordenone è sicuramente una capitale economica di questa regione, una capitale industriale della manifattura, ma anche una superpotenza culturale. Calendari di eventi ricchissimi che partono dal Teatro Verdi, all'Ex Convento, al Parco di San Valentino, ai grandi concerti e rassegna come Jets Insieme frutto dell'operosità, dell'intreprendenza, del genere, della raffinatezza culturale dei loro organizzatori. L'assessore alla cultura e ai grandi eventi Alberto Parigi mette in evidenza le peculiarità di questa quarta edizione. Il Comune apprezza e sostiene con convinzione Jets Insieme, sia perché è una rassegna dal grande contenuto artistico, una rassegna di grandissima qualità, sia per la formula che è stata utilizzata, cioè questa idea di proporre i concerti in luoghi diversi della cultura. È un disegno che sposa perfettamente l'idea dell'amministrazione di una cultura di eventi e di musica diffusa. Peraltro la primavera e l'estate di Pordenone sarà caratterizzata da tantissima musica, il jazz, il rock, il blues, la musica per i più giovani, la musica pop, rock, la musica indie. Quindi un grande affresco che rende onore al legame speciale di Pordenone con la musica. Il calendario e il luogo dei concerti è svelato dal curatore della rassegna, Giorgio Ivan. Quest'anno abbiamo programmato cinque date importanti. Inizieremo il 19 maggio al PAF. Il 20 di maggio saremo all'ex convento di San Francesco con un gruppo locale ma di grande rilievo. Il 21, il sabato, saremo al Capiton con un evento importante, a Visay Cohen con un progetto elettronico bellissimo e davvero interessante. E per la prima tanache del programma finiremo al Teatro Verdi con il grandissimo John Scofield e il suo trio. Faremo poi una data il 15 luglio, sempre a Pordenone, nel centro città, con un grandissimo cantante, Kurt Elling, accompagnato da Charlie Hunter alla chitarra.